Il comando militare dell'esercito in Sicilia e il CUS Palermo hanno sancito ufficialmente l'inizio del couso del centro sportivo di Bocca di Falco a Palermo. Si tratta del rinnovato città-esercito tenente onorato. L'esercito, visto le numerose iniziative sportive promosse dal CUS, ha ritenuto di poter collaborare proficuamente per il rilancio dell'impianto, avviando una fase del tutto nuova per lo storico polo sportivo della città. Per l'esercito la soddisfazione di poter restituire a Palermo un impianto d'eccellenza e rappresentare una guida nella promozione dell'attività sportiva fra i cittadini. Il CUS Palermo, guidato dal presidente Giovanni Randisi, ha condotto negli ultimi mesi un proficuo dialogo con il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, al fine di aprire un nuovo ed entusiasmante capitolo per la struttura di Via Giuseppe Di Marco, che in passato era la sede degli allenamenti della US città di Palermo. Adesso invece si apre un nuovo capitolo. Nasce infatti un polo sportivo d'eccellenza a Bocca di Falco, dove il CUS di Palermo, in concerto con l'esercito, si occuperà della manutenzione quotidiana e delle attività. Le prime a partire saranno due. Il campus estivo, aperto a tutta la cittadinanza, insieme ai figli dei dipendenti dell'esercito, Università di Palermo e utenti CUS, rivolto a bambini e giovani sino a 14 anni, con un programma pienamente inclusivo per i ragazzi diversamente abili.